Caro collega, il caso che ci accingiamo a valutare oggi sarà spunto di numerose riflessioni. Parliamo della genesia renale bilaterale. L'incidenza di questa patologia varia da 1 a 3 casi ogni 10.000 nati. La trasmissione è autosomica dominante a penetranze incomplete ed espressione variabile, autosomica recessiva, X-linked, ma quasi sempre sporadica. La malformazione è stata anche associata al consumo di cocaina e warfarin. Il regolare sviluppo dei reni origina dall'interazione tra la gemma ureterale, da cui originano le vie urinarie, ed il blastema metanefrico, da cui origina il parenchie marinale vero e proprio. L'alterazione di questo processo, entro la quinta settimana di sviluppo embrionale, conduce alla genesia renale bilaterale. Essa è quindi definita come l'assenza di entrambi i reni e degli ureteri. Dal punto di vista ecografico, sono assenti entrambi i reni e non si visualizza la vescica. È sempre presente oligodramnios o anidramnios, vi è una ridotta biometria del torace, è possibile osservare anche una deformità degli arti, l'adolicocefalia, l'assenza di entrambe le arterie renali. È molto importante da ricordare ai fini di una corretta diagnosi che, in caso di agenesia renale bilaterale, i surreni possono simulare l'ecostruttura di reni ed essere scambiati per questi. Parliamo del segno del surrene ptosico. Le moderne apparecchiature ecografiche definiscono bene il rene dal surrene. In sezione trasversa, infatti, i surreni presentano forma discoide o dovale con due aree esterne ipoecogene ed una centrale più ecogena. Se nel corso dell'esame ecografico non riusciamo ad osservare la vescica fetale, dobbiamo attendere almeno un'ora per essere certi che non vi sia produzione fetale di urina. Bisogna valutare l'assenza di entrambi i reni, non solo nella loro sede abituale, ma anche in sede ectopica. L'accuratezza diagnostica è bassissima fino a 15 settimane, diventa buona tra la diciannovesima e la ventesima settimana. La possibile associazione con altre patologie, quale atresiesofagea senza fistola, la massa mediastinica e la grossa ernia diaframmatica, può nascondere il segno principe, l'oligo anidramnios. In quel caso l'operatore non esperto può non riconoscere questa malattia, che è incompatibile con la vita extrauterina. Passiamo adesso alle immagini. Ebbene, in queste immagini andiamo ad osservare un feto alla tredicesima settimana. Andiamo a studiare inizialmente la traslucenza nucale, che risulta essere pari ad 1.5 mm, quindi normale. Andremo di qui a breve ad osservare anche l'osso nasale, che risulta essere anch'esso normale. Ancora una volta rimisuriamo la traslucenza nucale. Vediamo ancora una volta che risulta essere normale. Ciò che salta immediatamente all'occhio è la presenza di un liquido amniotico normale. Osserviamo adesso la flussimetria del dotto venoso. Abbiamo già detto che il liquido amniotico risulta essere normale. E perché? Perché nel primo trimestre di gravidanza il liquido amniotico risulta essere prodotto dalla placenta. Ecco perché è impossibile fare una diagnosi di agenesia renale bilaterale nel primo trimestre, proprio perché viene a mancare il segno principe, il segno cardine, che risulta essere l'oligo anidramnios. A questo punto passiamo all'utilizzo di una sonda ad alta frequenza. Ebbene, in questo caso andiamo a osservare inizialmente il cuore, che risulta essere pressoché normale. Andiamo a valutare anche gli arti superiori, perché abbiamo detto che la genesia renale bilaterale può essere associata anche ad anomalie degli arti. cosicché andremo ad osservare dapprima gli arti superiori, valutando la presenza delle ossa, del braccio, dell'avambraccio e della mano, e in un secondo momento anche gli arti inferiori. Per un istante è stato possibile osservare anche la presenza dello stomaco. Andiamo ad osservare, perciò che è possibile studiare in questo periodo di gestazione, e anche la colonna vertebrale. Non risultano essere presenti grosse anomalie della colonna vertebrale. Ricordiamo, tuttavia, che la chiusura della colonna vertebrale avviene solo a 19 settimane. A questo punto andiamo ad eseguire un CRL che ci conferma nuovamente che ci troviamo alla tredicissima settimana di gravidanza. Ci soffermiamo ancora un po' sugli arti inferiori, valutando la presenza della coscia, della gamba e del piede, per escludere l'eventuale associazione di anomalie degli arti inferiori. Passiamo adesso all'ecografia dello stesso feto, valutata invece tra la ventesima e la ventunesima settimana. In queste immagini è possibile andare a osservare il cervelletto, nonché la cisterna magna. Entrambe risultano essere normali. Ciò che tuttavia ci salta immediatamente all'occhio è la presenza di una plica nucale aumentata. Essa risulta essere pari a 5,8 mm. L'aumento della plica nucale è legata fondamentalmente alla stasi linfatica. E' possibile andare a osservare la normale presenza di un cavo del setto pellucido, nonché la normalità del diametro biparietale e, come vedremo di qui a breve, anche la normalità della circonferenza cranica. Ma ecco, di qui a breve, il segno principe, il segno fondamentale, la totale assenza di liquido. Vi è, cioè, anidramnios. L'assenza del liquido ci può far sospettare tuttavia per una grave malattia renale, ma anche per un'insufficienza renale e infine per una genesia renale. L'importante è andare a valutare anche l'ipoblesia polmonare. Infatti il cuore occupa gran parte del torace. Andiamo a fare anche una sezione dell'addome, dove andremo ad osservare dapprima lo stomaco. Ancora la colicisti. A questo punto abbiamo fatto vedere anche l'intestino, che presenta una normale ecogenicità. Andiamoci a studiare a questo punto le logge renali. All'interno delle logge renali non è possibile visualizzare i reni. Tuttavia, come abbiamo già detto anche nelle schede iniziali, è importante andare a distinguere il rene dal surrene. Il surrene, infatti, in caso di una genesia renale bilaterale, può assumere una forma globulare e può andare a simulare la presenza di un rene. Tuttavia, esso sarà caratterizzato da una iperecogenicità della midollare e da una ipoecogenicità invece della corticale. In questo caso è possibile osservare il surrene con questa caratteristica forma globulare e si osserva questo segno tipico caratteristico che prende il nome del segno del rene ptosico. Controlateralmente sarà possibile invece andare ad osservare la presenza di una sorta di rene abbozzato. Ecco qui che viene misurato. È un rene grizzo e questo ci viene confermato anche dal color doppler che ci mossa la presenza di una sorta di arteria renale. Ricordiamo che la genesia renale bilaterale prende anche il nome di sindrome di Potter ed è associata sempre ad ipoplasia polmonare e talvolta ad anomalia muscoloscheletriche. Per la diagnosi sono necessari l'anidramnios valutabile dopo la quindicesima settimana la mancata visualizzazione delle normali strutture renali nonché la mancata visualizzazione della vescica. La vescica risulterà infatti essere vuota. Molto raro infatti risulta essere la presenza nella pelve femminile di una piccola struttura ripiena di liquido dovuta allo scolo retrogrado in vescica. Tuttavia, in caso di dubbio, è necessario comunque ricorrere ad una risonanza magnetica fetale. Importante è andare anche a cercare i reni in un'eventuale sede ectopica. Ecco che vengono visualizzate nuovamente le logge renali e ancora una volta l'abbozzo di rene. A questo punto procediamo con le flussimetrie che risultano essere normali un cordone a tre vasi, ma non vi è la vescica. Bisogna ricordare l'importanza della consulenza genetica lì dove abbiamo una diagnosi di agenesia renale bilaterale.